Ci raccontavi l'episodio del ciclostile, ce lo vuoi raccontare bene dall'inizio, cosa facevate con il ciclostile? Con il ciclostile facevamo i manifestini, io adesso non mi ricordo nemmeno più che cosa ci scrivevamo. C'era Bruno Bertini, che poi è diventato a Roma, è diventato quello che aiutava un compagno della direzione, proprio, questo qui era un piemontese, non mi ricordo più come si chiamava, adesso perdo un po' la memoria. Poi magari mi viene in mente, ma avrei dovuto scriverle queste cose, magari nomi, queste cose così, non ho scritto niente. C'era mia nuora che mi diceva, ma scrivi queste cose, mi diceva, ho fatto male, poi ci si dimentica e via. Lì alle opere sociali dove io lavoravo c'era l'economo che la pensava come noi e quindi ci dava qualche ciclostile che poi si scrivevano e si tirava e si facevano i manifestini che poi li davamo in giro. Si andava nei teatri, per esempio, si andava in galleria, poi si buttavano, non so, facevamo, oppure li mettevamo nelle cassette, delle lettere, insomma, facevamo queste cose. E questo ciclostile lo hanno preso e poi sono andati a cercare da dove è uscito questo ciclostile. E sono venuti lì alle opere sociali, all'economato, dove c'era questo nostro compagno, solo che questo era un napoletano, era un massone, credo, anche. E il direttore, che doveva essere un massone, anche lui, era un napoletano, perché l'ansaldo aveva, c'era l'ansaldo di Pozzuoli, di Napoli, che, quando sono arrivati gli americani, è stato l'ansaldo di Pozzuoli e è stato trasferito a Genova. E questi qui venivano da Napoli. Insomma, fatto sta che questo direttore, tra l'altro, era fratello del capo dell'ovra, la polizia fascista, polizia segreta, tra l'altro, era servizio segreto fascista. Era suo fratello, ma lui era un massone. Probabilmente i napoletani, che sono dei dritti, si dividevano, no, nella famiglia, si dividevano i compiti, no? Però era una persona, era una persona corretta, perché ci avvisava quando succedeva qualche cosa, se... Poi, tra l'altro, con la faccenda di questi... di questo ciclostile, lui, cosa abbia combinato, non lo so, però non messo tutto a tacere. Non messo tutto a tacere, non è successo niente. Ma quel compagno che seguivano, invece? E beh, lui... lui se l'è data, poi, è andato nei partigiani.